Due prime riflessioni. La prima, oggi bisogna salvaguardare in maniera totale il valore etico dell'informazione, per cui questo è fondamentale. Noi ne abbiamo bisogno perché l'informazione è comunque libertà, quindi come tutte le libertà deve essere salvaguardata anche da un punto di vista etico, e quindi è primario come necessità e come bisogno. Il secondo punto mi viene in mente come riflessione è la solidarietà, cioè questo sciopero è dei giornalisti che hanno un'assunzione e che lo fanno a confronti dei loro colleghi che sono a tempo determinato. Questo è qualcosa che ci fa imparare qualcosa, cioè è un principio di solidarietà e questo è fondamentale. In una società dove assistiamo a una progressiva perdita anche di diversi valori, credo che la solidarietà sia uno dei valori migliori. Il sindacato su questo c'è, c'è in tutte le sue forme, perché comunque noi intendiamo il sindacato come un supporto reale, come un diritto che hanno i lavoratori e i cittadini di avere dei servizi, delle informazioni e di avere la vicinanza da parte del sindacato per quanto riguarda la tutela e anche dei diritti che vengono spesso violati. Da un punto di vista dell'editoria la terza riflessione è che non si può pensare di utilizzare, ma questo lo dico per l'editoria, non vale solo per l'editoria, non si può pensare di utilizzare le persone come se fossero cose. Il materiale umano, ma è un capitale umano, va considerato come una forma reale di risorsa. Le risorse non vanno disperse. Questa è la terza riflessione e la più importante. Grazie a tutti.